Salve, finalmente siamo arrivati all'ultima lezione, cioè alla lezione numero 20 del corso di probabilità e statistica. La lezione di oggi si occupa del campionamento statistico. In particolare i titoli sono campioni casuali, vedremo cosa si intende per campioni casuali, poi un tipo particolare di campionamento denominato campionamento bernulliano, poi il campionamento della distribuzione normale e poi parleremo dell'importante argomento stime di parametri e intervalli di confidenza. Cominciamo a vedere qual è il problema. Lo strumento che useremo per parlare di questo problema sarà il teorema di Bayes per vettori relatori, argomento del quale abbiamo parlato a lungo, come ricorderete, alla fine dell'altra lezione, la lezione 19. Gli ultimi 5 minuti sono stati dedicati a un'ampia discussione del teorema di Bayes per vettori relatori per poi concludere che in sostanza, a parte le maggiori difficoltà tecniche, nel senso che richiedono integrazioni multiple, perché parliamo di vettori relatori, la sostanza probabilistica del problema era la stessa del teorema di Bayes per eventi. C'era sempre il problema di certi eventi da chiamare ipotesi e certi eventi da chiamare esperimenti e sulla base dei secondi aggiornavamo le probabilità dei primi. Abbiamo delle probabilità iniziali di certe ipotesi e poi abbiamo delle probabilità finali che sono ottenute in base a risultati che si ottengono, che si valutano, che si aggiornano sulla base di risultati sperimentali. Questo modo di ragionare verrà applicato oggi al problema del campionamento statistico. Il campionamento statistico vuol dire questo. Noi abbiamo una certa popolazione con certi individui, nel senso sempre generale della parola popolazione individui. Come sapete popolazione non vuol dire per forza persone. Abbiamo una popolazione fatta da pezzi di un lotto di materiale che possono essere buoni o difettosi, per esempio. Quindi questi sono gli individui della popolazione, i pezzi. In generale, come sappiamo, possiamo dire abbiamo un'urna con palline bianche o nere, le palline possono essere bianche o nere, non sappiamo quante sono le bianche. Abbiamo un individuo di una popolazione, abbiamo una caratteristica incognita, diciamo così, adesso vediamo in che senso, degli individui di questa popolazione. Caratteristica che non è sempre del tipo come questo che ho appena fatto di esempio, cioè dell'urna, cioè pallina bianca o nera, cioè risposta binaria, sì o no, vero o falso, ma può essere del tipo numero aleatorio. Per esempio potremmo avere da studiare l'altezza x con i di una popolazione di individui. Che distribuzione ha l'altezza aleatoria degli individui di una popolazione? La domanda può ammettere risposte diverse, dipende da cosa intendiamo dire quando ci chiediamo che distribuzione ha, nel senso vogliamo trovare una unica distribuzione una volta per tutte, che di colpo, per così dire, mi individua la distribuzione delle altezze, ma vogliamo cominciare per gradi, come si fa nel processo di apprendimento dall'esperienza e di aggiornamento della probabilità sulla base dei dati. Cioè di ipotizzare inizialmente una certa distribuzione, poi campionare, perché oggi parliamo di campionamento, cioè raccogliere dei dati e sulla base dei dati trovare una distribuzione aggiornata in questo senso. Ma quando parliamo di conoscenza iniziale, bisogna vedere in che senso parliamo di conoscenza. Stavo facendo l'esempio delle altezze, no? Noi potremmo pensare che se io prendo una certa popolazione e misuro le altezze, possiamo pensarlo, o meglio si sa dall'esperienza, che in genere le altezze si distribuiscono in maniera simmetrica rispetto a un'altezza media. Una distribuzione di questo tipo, vedete, una forma tipo distribuzione normale, no? Questi sono lungo l'asse orizzontale, sulle ascisse ci sono le possibili altezze, no? Mettete che qui sia due metri questa media, sto parlando di vatussi, per esempio, no? Quindi popolazione di individui molto alti. Allora, i vatussi le altezze si distribuiscono tra due metri e altri valori che oscillano qui meno di due e più di due, no? In maniera simmetrica, distribuzione normale. A proposito di questo, attenzione che le distribuzioni sono caratterizzate anche dal loro codominio. Può sembrare strano che una distribuzione normale venga presa come distribuzione per rappresentare le altezze, perché la distribuzione normale ha codominio tutti reali, quindi assume anche valori negativi, valori possibili, no? Come mai le altezze che sono positive si possono rappresentare o si tenta di rappresentarle con una distribuzione normale? Perché è comodo usare le proprietà eleganti e facili della distribuzione normale, compresa la simmetria e il problema della non eventuale positività, perché i valori possibili, come vedete, potrebbero essere anche questi qui, no? Negativi. In realtà si superano, perché come sappiamo per la distribuzione normale, se questo è il valore medio e qui ci mettete M meno 3 sigma ed M più 3 sigma da quest'altra parte, sapete bene che il 99,74% della probabilità è tutta dentro l'intervallo M meno 3 sigma, M più 3 sigma, quindi di fatto anche se in teoria questa potrebbe assumere anche i valori negativi qua giù, di fatto li consideriamo dal punto di vista pratico impossibile, quindi ragioniamo in questo intervallo, perché ripeto, sfruttiamo la simmetria della distribuzione normale e anche le proprietà eleganti che conosciamo, quindi diciamo che l'altezza dei vatussi si distribuisce secondo una distribuzione normale. Io però ho messo due, me lo sono inventato qua, ho detto il valore medio 2, ma io in genere posso solo sapere, misurando le altezze dei vatussi, che verranno delle grandezze piuttosto alte, dei valori piuttosto alti, distribuiti in un certo modo del quale non conosco nemmeno lo scarto standard e quindi ho fatto una figura per farne una, ma non so se è più o meno schiacciata, più o meno distribuita, addensata intorno al valore medio o più sparpagliate. Quindi quello che sto ipotizzando di fatto è solo che la distribuzione del tipo nm sigma di x con i, dove x con i è l'altezza dell'individuo iesimo, ma non conosco m sigma di fatto perché non so qual è l'altezza media di quel gruppo di vatussi del quale sto misurando le altezze, né tantomeno conosco come sono disperse, nel senso che non conosco lo scarto standard sigma, o anche possiamo dire non conosco la precisione, si definisce precisione il reciproco della varianza, si può scrivere così, h uguale 1 su sigma quadro. Perché si chiama precisione reciproco della varianza? Perché capite bene in base a quello che già sappiamo sulla varianza, che tanto più la varianza è piccola, quanto più c'è meno dispersione dei valori osservati e quindi si può dire che sono più precisi, meglio ancora sarebbe dire la precisione dello strumento con il quale otteniamo quei valori che abbiamo misurato. Reciprocamente se la varianza è grande vuol dire che la precisione è piccola, perché vuol dire valori molto dispersi, quindi ottenete i valori lontani. Adesso supponiamo che oltre ad aver misurato le altezze dei vatussi, misuriamo anche le altezze dei pigmei, allora noi potremmo avere un'altra distribuzione di tipo normale fatta così. Ecco, vedete che ovviamente avete un altro valore medio, un'altra varianza in generale, potrebbe essere anche la stessa, quello che è importante comunque è che m1 il valore medio di questa distribuzione dei pigmei, dell'altezza dei pigmei sarà minore di m, cioè di 2, il valore medio dei vatussi, e quindi in questo caso noi abbiamo due diverse distribuzioni normali con due diversi valori del parametro incognito, teta, una volta m1 e una volta m. Se invece misurassimo per esempio le altezze di tutta la popolazione mondiale, allora chiaramente sarà molto più disperso, quindi avremo un grafico di questo tipo. Vedete, con una varianza maggiore, quindi avete questo tipo di situazione. Il problema è un po' simile a quello che avevamo già visto per gli eventi, quando facevamo col teorema di Bayes l'aggiornamento delle probabilità degli eventi da chiamare ipotesi sulla base di osservazioni, voi avevate una distribuzione iniziale, una probabilità iniziale per l'evento H e dopo l'aggiornavate facendo PDH condizionata D, cioè il risultato dell'esperimento. Il supposto osservato. Qui la situazione è simile perché il parametro teta è quello che all'inizio non so dove piazzarlo, come dire, perché se sono pigmei metterò intorno a m1, se sono vatussi metterò intorno a 2. In generale io ho una distribuzione del parametro teta, perché dovete non confondere le due situazioni. Una cosa è la distribuzione della popolazione e questo sarà quello che chiamiamo fx con i condizionata a teta, no? Quindi questa è la distribuzione di x con i. E una cosa invece è la distribuzione rispetto al parametro teta dell'appunto il parametro teta, questo è quello che chiamiamo beta teta, no? Allora, se questo è beta teta, dopo fatta l'osservazione x, questo si modificherà e diventerà beta teta condizionata di x e quindi avrete in generale una distribuzione più stretta, no? Beta teta condizionata di x. Adesso vi sto dando molto rapidamente e molto grossolanamente delle idee della procedura che adesso vedremo ordinatamente sulle slide com'è la procedura che prosegue aggiornando beta teta sulla base dell'osservazione x. Quindi adesso torniamo alle nostre slide e vedremo come procedere. Abbiamo un numero allatorio, quando misuriamo l'altezza degli individui di una popolazione, abbiamo un numero allatorio che possiamo dire che ha distribuzione normale, vedete la domanda nota? E ho già risposto prima. Nota, per essere nota quando dico distribuzione normale, distribuzione normale è nota quando io do anche m e do anche sigma. Siccome io non conosco la media, l'altezza media di una popolazione nuova che sto misurando per la prima volta, tantomeno conosco lo scarto standard perché non so come sono disperse intorno al valore medio, è nota nel senso che ipotizzo la forma ma non è nota nel senso che non conosco i parametri. Allora come notazione stabiliamo che quando i parametri non sono noti li indichiamo con la lettera teta, quindi m la chiamo teta 1 e sigma li chiamo teta 2. Quindi noi abbiamo la distribuzione x con i delle altezze, se facciamo l'esempio dell'altezza in generale una caratteristica della popolazione della quale ipotizziamo che sia uguale a distribuzione normale. Allora la distribuzione che assegno in realtà non è la f di x con i, il simbolo che di solito usiamo per la densità, ma è una f di x con i condizionata al vettore teta, vettore bidimensionale di componenti teta 1 e teta 2. Cioè noi vedete diamo la forma, diciamo che è una normale n di x con i, ma dove c'è m e sigma mettiamo il simbolo che ci fa ricordare che in realtà sono incogniti. Dovremmo fare delle ipotesi provvisorie su quel teta 1 e teta 2 e poi vedremo come si aggiornano sulla base dei dati. È un simbolo già usato, quando campionavamo da nulla di composizione incognita non chiamavamo più P la probabilità, cioè la percentuale di panne bianche, la frazione di panne bianche, ma la chiamavamo teta, proprio per ricordarci che la forma è nota ma il valore no. Come dicevo appunto teta, teta 1, teta 2, no? Ecco appunto facevo l'analogia con l'una di composizione incognita. Ricordate l'una di composizione incognita? Io posso dire teta è la frazione di palline bianche. Le x con i sarebbero gli indicatori di questi eventi, cioè pallina bianca all'iesima estrazione. Quindi x con i appunto come dicevo è l'indicatore di con i, no? Vedete che siamo nella stessa situazione, ma tu la conosci la distribuzione di probabilità del possibile risultato, cioè viene pallina bianca all'iesima estrazione? Che probabilità ha? Viene pallina bianca all'iesima estrazione? Cioè la domanda è la stessa di prima, la distribuzione di x con i è nota? La risposta è come prima, dipende cosa vuol dire nota. La forma è nota perché io dico che vale teta, che è la probabilità di estrarre pallina bianca, se l'evento è vero, cioè x con i uguale a 1, ricordate che è l'indicatore, quindi dire che x con i è uguale a 1 vuol dire che l'evento con i, pallina bianca all'iesima estrazione è vero. Che probabilità ha questo evento? Teta. Che probabilità ha l'evento contrario? 1 meno teta, perché x con i uguale a 0 vuol dire che l'evento è falso. Ricordo che x con i è l'indicatore di con i. Quindi vedete, sembra che la conosco perché io do la formula, no? la distribuzione di probabilità, in questo caso non è una densità, uso lo stesso simbolo per avere notazioni uniformi, la distribuzione di probabilità è fatta o teta o 1 meno teta. Quando la composizione è nota, lo chiamavamo P, P o 1 meno P, non è solo che cambiamo nome, è che c'è una doppia incertezza, perché oltre ad esserci l'incertezza legata al risultato di un'estrazione che c'è anche se l'urna ha composizione nota, c'è la doppia incertezza legata al fatto che comunque l'urna ha anche composizione incognita. Quindi la distribuzione, anche qui la domanda è nota, e sì e no, è nota la forma ma non è nota perché non è noto il parametro teta, no? Questa è quella che si chiama distribuzione di Bernulli, avevo parlato nei titoli di campionamento bernulliano. Questo in realtà è un problema che abbiamo già discusso, perché adesso ho usato solo la notazione continua, no? Usando il stesso simbolo di densità, però questa che discutiamo adesso è una cosa che abbiamo già discusso, quando io faccio n estrazioni da un'urna e ottengo n risultati, x1, x2, xn, in questo caso sono soltanto 1 o 0, no? Perché x1 vuol dire che la prima parina estratta è bianca, x2 vuol dire la seconda parina estratta è bianca, se viene 1, se viene 0 vuol dire che invece è nera. In realtà con l'estrazione io individuo una componente di un vettore xθ, che cosa voglio dire? Vuol dire quello che dicevo prima, la doppia incertezza, non siamo incerti solo sul risultato del campionamento, sui valori x1, x2, xn, ma siamo incerti pure sul valore del parametro da cui la distribuzione dipende. Quindi in realtà il vettore incognito non è solo questo, ma è questo virgola teta, no? E noi con le estrazioni osserviamo un campione relativa a una componente del vettore, la componente legata all'x, cioè di fatto come prima si chiamava F, la singola osservazione, quella congiunta, questa sarebbe quella che si chiama la funzione di verosimiglianza, no? L'abbiamo già discusso nel caso degli eventi anche, questa non conosciamo la distribuzione congiunta, ma conosciamo la distribuzione congiunta condizionata a teta, cioè io conosco la probabilità di stare parina bianca? No, perché è teta, però se la condiziono a teta, supposto vero teta, la conosco perché so com'è fatta, no? Sarebbe in sostanza la marginale condizionata a teta e so che è fatta così, è il prodotto delle marginali condizionate e sapete che vale teta in corrispondenza a ogni successo e vale 1 meno teta in corrispondenza a ogni insuccesso. Infatti vedete che teta è elevata alla somma degli x con i, non ci dimentichiamo che gli x con i sono indicatori, quindi la somma degli x con i vuol dire h successi, no? La somma degli x con i fa h, se sono h gli eventi che sono veri. La somma di n, n meno la somma degli x con i fa gli insuccessi, n meno h. Ricordate che questa era la forma tipo binomiale, no? A parte il coefficiente n sopra h per scegliere tutti i vari h posti, adesso supponiamo di avere fissato gli h posti, no? Quindi è una formula già nota, è una vecchia amica, no? Una volta che noi assegniamo anche la marginale, cioè assegniamo la distribuzione di probabilità su teta, siamo nel solito problema del teorema di Bese, che c'avete la verosimiglianza, c'avete la distribuzione iniziale, dovete trovare la beta teta condizionata di x. Col teorema di Bese, perché la beta teta condizionata di x sarà, ne ho discusso già lungamente, ripeto, alla fine della lezione 19, sarà k di x che si può sempre trovare facendo un integrale in teta e viene il reciproco del denominatore, ricordate, no? Sarebbe l'integrale dell'alfa di x. Beta teta è la verosimiglianza che appunto nel caso dell'urna, che stiamo parlando di quell'esempio, stiamo rivisitando quell'esempio, ecco appunto dicevo kx si ottiene facilmente da qui, questa sarebbe la formula di disintegrazione nel continuo, no? Quella che abbiamo usato sempre nel discreto, nel continuo, rispetto al parametro teta che varia tra 0 ed 1, per cui stiamo parlando appunto di un parametro legato al campionamento bernulliano in cui il parametro teta varia tra 0 ed 1, ecco che abbiamo questo kx, no? Questa slide che vi sto mandando adesso è una vecchia amica, quando abbiamo parlato di estrazioni da urne, dimenticate per un attimo questo pezzo qui azzurro che sto carezzando con il mouse, ne parliamo fra un attimo, ignoriamo questo, ne abbiamo già discusso al suo tempo, che se chiamo con E l'evento H successi su N prove, la probabilità di E quando la composizione incognita non ce l'abbiamo, noi abbiamo solo la probabilità di E dato H con R, no? Che è questa qua sotto, è N sopra H, cioè se H vuol dire H successi, teta R alla H, 1 numero da terra alla N meno H, la moltiplichiamo per le probabilità delle varie composizioni H con R, andate a riguardarvi la lezione sulle urne e ritroverete questa formula, la novità qual è? Che qui adesso come notazione queste P di H a R sarebbero il beta teta e queste P di H a R sarebbe l'alfa di X teta, ecco perché lo scritte sopra, no? Abbiamo cambiato notazione, in quelle slide che avete visto prima c'era sostanzialmente questa formula usando la notazione continua perché così usiamo le stesse notazioni anche quando campioneremo da distribuzioni diverse da quella bernulliana, no? In particolare quella di cui stavamo parlando, per esempio le altezze, per esempio una normale, no? Quindi in generale la teoria come funziona? Vedete quello che abbiamo osservato prima nel caso dell'urna, in generale noi avremo dei risultati del campionamento, risultati possibili insomma, no? Poi li osserviamo e diventeranno risultati osservati, no? Quello che noi consideriamo come vettore n dimensionale, X1, X2, X con n, sarà solo una componente dell'incertezza globale che abbiamo sul problema, no? Perché poi c'è il parametro teta da cui la distribuzione dipende, ricordate l'esempio che facevo prima, è vero che noi supponiamo per esempio le altezze seguono la distribuzione normale, però non siamo così bravi da poter dire anche quanto vale m e quanto vale sigma, o magari possiamo dire uno di due, insomma tutta la distribuzione non la possiamo dare, diamo solo alla forma, il tipo di distribuzione, ma quindi in un certo senso quando osserviamo le X, osserviamo solo una componente dell'incertezza perché rimane l'incertezza legata ai valori del parametro, si definisce campione casuale di numerosità n, un'osservazione, una n nupla, un vettore osservato o osservando, non ha importanza averlo già osservato, è una definizione a carattere generale ovviamente, un'osservazione possibile o effettuata che soddisfa le stesse proprietà che soddisfaceva il caso dell'urna, cioè vedete che dobbiamo supporre che per ogni fissato valore teta del parametro teta, vettoriale o scalare che sia, tutti i numeri relatori disconi hanno la stessa distribuzione condizionata, f disconi dato teta, ricordato nell'esempio delle altezze, non so quanto vale la media e la varianza, però ammetto che sono tutti con distribuzione normale, quindi fissato teta la distribuzione è la stessa, quindi la distribuzione non è la stessa, è la stessa condizionata, nel caso dell'urna, non so quant'è la probabilità di estrarre la parina bianca perché è teta incognito, però è teta per tutti, quindi condizionata teta è la stessa per tutti, quindi per ogni fissato teta tutti i numeri relatori che possono essere le altezze oppure pallina bianca o no, come era il caso di isconi indicatore, hanno tutti la stessa distribuzione condizionata, e poi la seconda probabilità, ammettiamo che valga quella legge di fattorizzazione condizionata, cioè che la funzione di verosimiglianza sia il prodotto delle marginali a tensione condizionata, quindi non è una condizione di dipendenza, perché i numeri relatori x1, x2, x con n sarebbero indipendenti se valesse questa legge senza i teta, se l'alfa x1, x2, x con n fosse uguale al prodotto di fx1, fx2, f di iscon n, ma queste sono condizionate, quindi non è l'indipendenza, anzi semmai questa si potrebbe chiamare indipendenza condizionata, che è una condizione diversa dall'indipendenza, che non sono indipendenti anche chiaro dal fatto che l'indipendenza, ricordate il significato intuitivo di indipendenza, indipendenza vuol dire, indipendenza stocastica intendo, che quello che osservate non vi fa cambiare la vostra opinione, ricordate i due eventi sono indipendenti, se la probabilità i ed h, indipendenti, se la probabilità di h rimane la stessa anche dopo aver osservato e per esempio, cioè non modifichiamo la probabilità del secondo evento sapendo che è vero il primo, o viceversa, insomma, no? Mentre invece qui noi impariamo sui valori x1, xxn, stiamo cercando di stabilire qual è la distribuzione di probabilità delle singole osservazioni, quindi è chiaro che le modifico man mano che osservo, le modifico perché modifico la distribuzione di teta e siccome teta è il parametro che governa la legge di distribuzione, nel momento che voi aggiornate teta è chiaro che aggiornate anche x perché la distribuzione dipende da teta, no? Quindi questi sono tutt'altro che indipendenti, si vede anche intuitivamente, ma questa probabilità, ripeto, nemmeno sintatticamente è una condizione di indipendenza perché è quella che si chiama, semmai, indipendenza condizionata ed è un concetto del tutto diverso. Allora, se siamo in quelle condizioni, no? Che supponiamo che il campione sia casuale, quindi la verosimiglianza la posso fatturizzare in quel modo, col torema di Bess, ancora una volta, prima l'avevo scritto per il caso dell'urna, qui in generale se questa è la distribuzione io devo fare la solita formula, ormai la conosciamo, no? La distribuzione finale vuol dire che inizialmente io assegno un parametro teta e un valore, una distribuzione beta teta, scusate, al parametro, moltiplico per la verosimiglianza che è fatturizzata in questo modo e ottengo la distribuzione finale. Ovviamente iniziale e finale non vuol dire inizio del mondo e fine del mondo, ma iniziale e finale rispetto all'esperimento che stiamo effettuando, no? Poi domani, se ricomincio, la distribuzione finale di oggi è la iniziale di domani ovviamente, no? Adesso facciamo un esempio di un campionamento da distribuzione normale, abbiamo detto l'altezza, adesso vediamo in generale, senza prendere di riferimento l'altezza, supponiamo di conoscere la varianza, vedete che teta l'ho messo solo al posto di m, la varianza la suppongo nota, ma non suppongo nota il valore medio, supporre nota la varianza è equivalente a dire suppongo nota la precisione, no? Perché ho detto prima che h1 su sigma quadro si chiama precisione, che cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che voi state facendo delle misure con uno strumento di precisione nota, quindi sapete già qual è la dispersione, no? Se avete una bilancia scassata, quando vi pesate la mattina e salite tre o quattro volte sulla bilancia, scassata vuol dire poco precisa, quindi vuol dire che la varianza è grande, voi trovate 74, 82 e così via, no? Mentre invece una bilancia precisa, due pesate, 80, 81, molto vicine, no? Quindi vuol dire che voi state facendo delle misure, per esempio il vostro peso, ma quello che vi pare, misure di qualunque grandezza, con uno strumento di precisione nota, però non conoscete qual è il valore cosiddetto vero di questa grandezza che state misurando e cercate di identificarla attraverso il suo valore medio, quindi non lo conoscete il valore medio, quindi è un campionamento da distribuzione normale con varianza nota, ma valore medio incognito, no? E allora dobbiamo procedere prendendo una distribuzione iniziale, inizialmente come lo prendiamo il valore medio? Il valore medio lo posso prendere distribuito normalmente con certi valori assegnati M0, sigma 0, lo posso prendere appunto in questo modo perché in base alle informazioni che ho sul feromeno che sto studiando sono in grado di dare qualche notizia, no? Di questo tipo. Questa distribuzione iniziale in sostanza è una sintesi dello stato di informazione precedente all'assorbazione. Torniamo un attimo all'esempio delle stature, no? È vero che io quando ipotizzo che una statura segue la distribuzione normale non conosco M e sigma, no? E quindi questa è così e che ne so qual è il valore medio? È una delle incogni, sigma supponiamo che lo so perché stiamo supponendo con lo strumento di precisione nota. Però non è che non so niente, non è che siccome non la so, questo potrebbe essere 3.000 oppure 0.2, stiamo parlando di metri, no? Siccome una statura so che presso a poco starà tra 1.60 e 1.90, per esempio, no? Quindi non è vero che non so proprio nulla su M. Allora, quell'NM0 sigma 0 che è scritto lì è la distribuzione iniziale che do sul valore di teta, questo valore medio incognito. Per esempio, se dico che per me la statura, anche se non so qual è quella media, è compresa fra 1.60 e 2.10, no? Vogliamo mettere anche quelli molto alti, vuol dire che io riesco a dare una NM0 sigma 0 con queste scelte di M0 sigma 0, vuol dire che io sto ipotizzando che il teta incognito, questo valore medio della statura, no? È del tipo che appartiene a un intervallo di questo tipo con probabilità 0.9974, per questo è sempre vero per qualunque distribuzione normale, quindi se io so che la statura deve essere, faccio sempre esempio la statura, deve essere compresa fra 1.60 e 2.20, vuol dire che dovrò scegliere M0 e sigma 0 in maniera tale che questo numero sia uguale a 1.60 e questo sia uguale a 2.20, no? È un sistemino di due equazioni e due incognite e quindi potete trovare quant'è M0 e quant'è sigma 0, no? Poi, avendo ipotizzato che è normale, vuol dire che in un certo senso, state ipotizzando la simmetria, il teta non lo conosco, questa statura non so quant'è la statura media, però do la stessa probabilità al fatto che teta appartenga agli intervalli di uguale ampiezza e simmetrici rispetto al valore media del M0, sono le proprietà standard della distribuzione normale. E poi, i valori centrali, in ogni intervallo simmetrico intorno al valore medio, sempre del tipo di questo, con un K generico, non un K uguale 3, che serviva per un altro motivo, in ogni intervallo simmetrico i valori centrali sono più probabili di quelli estremi, questo è vero sempre per la distribuzione normale, no? Quindi ipotizzo questa distribuzione. Per esempio, come lo vedremo più tardi, l'esempio della conducibilità, un esempio nel quale sono ancora debitore della risposta, che fin dalla prima lezione avevo detto se dobbiamo misurare la conducibilità elettrica di un nuovo materiale, come si fa? E supponiamo che lì siamo informati che il valore teta è compreso fra 15 e 17, no? E' come un fattore sempre adesso dell'altezza, no? Invece che dire tra 1,60 e 2,20 parliamo di conducibilità elettrica. Supponete che la conducibilità elettrica è compresa fra 15 e 17. Vabbè, andate a prendere un beta teta N, M0, sigma 0, scegliendo M0, sigma 0 in modo tale che vi venga che 15 e 17 è proprio l'intervallo, se voi siete sicuri che è compreso in quell'intervallo, siete sicuri, mettiamo al 99,74%, prendete questo intervallo così, no? E quindi risolvete il sistemino, questo è uguale a 15, questo è uguale a 17 e date la distribuzione iniziale. Cioè, come ho detto, vi tenete molto probabile che sia in questo intervallo. Quindi risolvendovi N, M0 uguale 16, sigma 0 uguale un terzo. Questa slide la rivedremo fra poco, quando parlerò appunto di quell'esempio del quale sono rimasto tempitore fin dalla prima lezione. Adesso torniamo alla teoria generale. Quindi ricordo che stiamo campionando una distribuzione normale con precisione o varianza uguale al reciproco della precisione nota, valor medio incognito. Abbiamo per ora assegnato la distribuzione iniziale. È ancora una normale, da non confondere, la normale della popolazione è una normale rispetto a x con i, con valor medio incognito teta. Poi sul teta, diamo una distribuzione normale con distribuzione assegnata N, M0, sigma 0, teta. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andarci a costruire la verosimiglianza. Abbiamo detto che è un campione casuale, quindi la verosimiglianza è il prodotto delle marginali. Quindi avete, siccome sono tutte normali, vedete, sono normali con sigma noto, questo secondo parametro, e teta incognito. x con 1, x con 2, x con N è quello che si chiama il campione osservato. Sono i valori che avete letto, se erano le stature, queste sono le stature del primo individuo, la statura del secondo individuo, la statura dell'ennesimo individuo osservato. Applicate ancora una volta il teorema di BES, quindi la distribuzione finale, dovete fare altro che prendere quella normale N, M0, sigma 0, moltiplicarla per questo e ottenete qualche cosa. I conti stanno sul libro, ve li guardate, sono mezza pagina di calcoli, ma del tutto banali. Si tratta di fare moltiplicazioni, raccogliere esponenziali, mettere in evidenza quello che va messo in evidenza, e si ottiene che partendo da una iniziale, come eravamo partiti N, M0, sigma 0, si arriva a una finale, perché abbiamo detto che si chiama finale, quella condizionata di x, N, MN, sigma N di teta, ovviamente, della variabile teta, con MN e sigma N definite in questo modo. MN, vedete, che è una media ponderata dell'M0 iniziale, quando ho detto, ma l'altezza sarà circa tra 1,60 e 2,20, calco l'M0, viene un valore intermedio, quanto fa 1,60 e 2,20? 1,90 mi sembra, no? Allora, questo è 1,90. Dopo i dati osservati, anzi, la loro media aritmetica, mi dicono un altro numero, e allora io ne rendo conto di tutte e due, della cosiddetta opinione iniziale M0 e del valore osservato, o meglio, della sintesi espressa attraverso la media aritmetica, e li pondero, cioè li faccio una media ponderata con pesi uguali alle loro precisioni, cioè questo risultato che si ottiene facendo quei conti che non ho mandato, che non ho mostrato, è del tutto naturale, perché vi dice che la media finale, il valore medio finale, M con N, aggiorna quello iniziale M0 tenendo conto dell'osservazione x segnato, che è la media aritmetica delle osservazioni, prendendone una media, ma non una media aritmetica, la somma diviso 2, ma la somma pesata, cioè ognuno conta tanto più nella valutazione finale, quanto più è preciso, no? Siccome questo è il reciproco della varianza, è la precisione della misura, no? Diviso la somma dei pesi, vedete che infatti la precisione finale è la somma delle due precisioni, no? Su N osservazioni, se la precisione singola è 1 su sigma 4, per proprietà elementare della varianza, quando andate a sommare, vi viene N su sigma 4, questa è la precisione iniziale, vedete che ci avete guadagnato comunque, perché se inizialmente il vostro M0, la vostra stima grossolana, era basata su una precisione 1 su sigma 0 quadro, adesso la precisione di Mn è quella di prima più qualche cosa, quindi di più, no? Voglio dire che da quelle formule è ovvio, è sicuro, che se voi siete partiti con una distribuzione così, no? Questo è il vostro N, M0, sigma 0 di teta, quando arrivate ad Mn, supponete che questo è il valore osservato, la media rettilica dei valori osservati, allora l'Mn sarà intermedio, non certo il punto medio, intermedio, pesato nel senso delle formule di prima, la varianza sarà sicuramente più piccola, perché avete visto da lì, no? Che si aumenta la precisione, quindi avete, che il risultato dell'osservazione vi cambia il grafico, nel senso che non è questo che avete ipotizzato, ma viene corretto, aggiornato, nel senso che ora è centrato su questo, ed è anche più stretto, perché la varianza si è ridotta, eh? Questa specie di scarabocchio che vi faccio, per farvi vedere il risultato del campionamento, da una distribuzione dispersa ne ottenete una più concentrata, e avete precisato meglio qual è il valore medio, perché il valore medio, insisto, è una media ponderata del valore medio iniziale, e della media aritmetica delle osservazioni, cioè non prevale nell'uno e nell'altro, dipende dalla precisione, no? Bisogna tenere conto di tutte e due, tutte le informazioni sono utili, no? Adesso vediamo come si può fare se uno non vuole tenere conto di tutta la distribuzione e vuole avere dei parametri riassuntivi, per esempio è molto usato il concetto di intervallo di confidenza, intervalli di confidenza sono fatti così, si fissa un numero alfa, che deve rappresentare una probabilità di solito molto grande, no? Probabilità 0,95, e introduciamo un sottoinsieme del codomino di teta, no? Tale che la probabilità che teta appartenga da, condizionata ad x, per questa cosa la fate dopo che avete fatto l'osservazione, quindi tutte le probabilità in gioco sono sempre condizionate, perché stiamo trovando un intervallo di confidenza, adesso vediamo meglio che cos'è, supposto di aver osservato x. La probabilità la vogliamo che sia molto grande, cioè che sia uguale ad alfa, no? Sapete bene che la probabilità di appartenere a un intervallo si fa come l'integrale steso allo stesso intervallo o insieme della distribuzione, la distribuzione è la beta teta dato x, no? Fatta rispetto a teta perché l'incognito è teta, li imponiamo che sia uguale ad alfa, no? In particolare di solito teta si prende un intervallo e si chiama intervallo di confidenza al 100 alfa per cento, mi spiego meglio, andiamo ancora sul figure. Quando voi avete fatto il campionamento siete arrivati a una distribuzione finale, migliore di quella iniziale, quindi avete qualcosa, adesso non è che debba essere normale, ma adesso faccio il caso della normale, questa è l'informazione completa, su questo sapete tutto. Se prima avevo una distribuzione normale più piatta, adesso c'è una più stretta, questo mi dà tutto quello che voglio su teta, posso fare il valore medio, trovare il valore massimo, in questo caso è simmetrica e coincido, no? Ma potrei dire, non voglio sapere tutto su teta, voglio sapere con che probabilità teta cade dentro un certo intervallo. A me mi interessano poi dei valori particolari del parametro teta, perché se sto discutendo, per esempio, l'esempio che ho fatto prima, la conducibilità elettrica, non è che mi interessano tutti i valori possibili, mi interessa che la conducibilità elettrica sia compresa in un certo intervallo, perché in quell'intervallo è quello critico rispetto al problema in cui poi lo devo applicare, devo costruire qualche cosa in cui è importante che ci sia una certa capacità di isolare il passaggio di corrente, potete immaginare facilmente il tipo di problema che può essere venuto fuori da una ricerca di questo tipo, no? Quindi la mia conducibilità elettrica, per esempio, mi interessa solo che sia compresa in un certo intervallo con un'alta probabilità, allora io devo trovare, capite che la probabilità qua sotto è tutta 1, no? Tutta la probabilità è 1 perché l'integrale di densità fa 1, con che probabilità, cioè qual è l'intervallo che con probabilità del 95% dentro al quale con probabilità del 95% cade il valore di teta? Allora voi dovete prendere un intervallo, lo capite bene, fate l'integrale da qui a qui, teta 1, teta 2, con teta 1 e teta 2 scelti opportunamente in modo che quest'area faccia 0,95, no? Se voi trovate, e per tentative e sul libro trovate i conti fatti in dettaglio di alcuni esempi e anche sul sito internet, se voi fate il calcolo scegliendo opportunamente teta 1 e teta 2, non vi viene, avete già la notizia generale, la distribuzione completa di teta, ma volete una notizia particolare, vi viene che con probabilità del 95% il vostro valore teta è dentro questo intervallo, quindi è una notizia di tipo più particolare, no? Nel senso che può essere più utile per poi considerarlo nel problema concreto. Allora vediamo, torniamo all'esempio fatto alla prima lezione, perché la prima lezione, quando ho fatto gli esempi di problemi in cui c'era l'incertezza e non sapevamo come gestire la probabilità, avevo detto ma con i casi valori, i casi possibili non ci facciamo niente, è troppo particolare, con la frequenza nel passato pure è troppo particolare, ho fatto due esempi, l'esempio del cappello e della moneta, difettosa, di cui ho parlato un sacco di volte, abbiamo già visto come si gestisce col teorema di Bess e l'abbiamo risolto. L'altro esempio che avevo fatto era questo, supponete che io sto preparando un materiale isolante, voglio misurare la conduttività e su 10 campioni di materiale ho trovato dei valori della conduttività, questi 10, ho fatto la media arittimetica, teta stella, questa è andata a riguardarvi i luci della prima lezione, lo trovate già scritto, 16 e 57, allora però il teta stella è vero che è 16 e 57, però quello non è che è la conduttività di quel materiale, quello riguarda solo i 10 campioni osservati, che cosa posso dire per la conduttività in generale, per la popolazione di tutti, tra virgolette, perché tutti i possibili pezzi di questo materiale non sono nemmeno raggiungibili, ma per avere un valore un po' più generale di dire questa è un'informazione parziale sul campionamento relativo a 10 valori soltanto, cosa posso fare? Avevo detto nella prima lezione, non potete avere una certezza, non potete dire niente di definitivo, potete dare una risposta probabilistica del tipo, la conduttività teta non so se c'era scritto prima 16 e 37, quello che c'era scritto, non so se è uguale a quello, quella è solo la media arittimetica delle osservazioni, però vi posso dire, vi avevo promesso la prima lezione, che posso dare una risposta probabilistica del tipo, la conduttività vi do con probabilità molto alta, per esempio 0,95 sta dentro questo intervallo, io ero partito dicendo, ma secondo me sta tra 15 e 17, però non so dire, faccio 10 misure, trovo quel valore medio, adesso posso precisare con quella tecnica che vi ho mostrato, perché si tratta di un problema dello stesso tipo di quello che abbiamo studiato prima in generale, vedete abbiamo uno strumento di precisione nota, per comodità mettiamo sigma uguale 1, abbiamo misurato le conduttività di 10 campioni del materiale, abbiamo trovato la media arittimetica, quello che si chiamava teta stella nella prima lezione, adesso qui abbiamo, usiamo la dotazione di oggi, x medio 16 e 57, quindi la distribuzione finale sarà sempre del tipo n, mn, sigma n, dove mn, sigma n sono ottenuti come medie ponderate con quelle formule lì, che non vi rimando ovviamente, viene, i valori numerici vengono, ricordate che prima era compreso tra 15 e 17, ho discusso 10 minuti fa come si trovava m0 e sigma 0, adesso c'è mn e sigma n che sono quelli finali e quindi l'intervallo di confidenza al 95%, così come ho fatto vedere prima sulla figura, è un intervallo simmetrico rispetto al valore medio, quindi vedete che del tipo mn meno un certo numero di volte k sigma n, mn più k sigma n, quindi voi praticamente quelli che lì si chiamavano teta 1 e teta 2 nella figura, sarebbero proprio mn meno k sigma n, mn più k sigma n, cioè k lo dovete scegliere in maniera tale che la probabilità che teta appartenga a questo intervallo sia 0,95, ma come sappiamo per quella bella e elegante probabilità della distribuzione normale, quella probabilità non dipende da m e sigma, ma dipende solo da k, quindi la probabilità che teta appartenga a questo intervallo è come la probabilità che teta appartenga a meno k più k, cioè quando prendo i valori della normale standard, m uguale 0 e sigma uguale 1, ma questo lo leggo subito dalle tavole, perché fi di k meno fi di meno k viene come sappiamo 2 fi k meno 1, impongo che sia uguale a 0,95, risolvo rispetto a k e trovo che k è uguale a 1,96, lo rimetto lì dentro e trovo che l'intervallo di confidenza è 15,85, 16,75, cioè abbiamo quella risposta probabilistica di cui parlavo nella prima lezione, non abbiamo trovato la conduttività teta, però abbiamo trovato la distribuzione finale della conduttività teta, volete una risposta un po' più sintetica? Allora invece di avere tutta la distribuzione vi dico che con probabilità 0,95 la conduttività appartiene a questo intervallo, ne volete ancora una più sintetica? È il problema della stima, cioè stimare una distribuzione, stimare un parametro teta del quale conosciamo la distribuzione con un solo valore da chiamare teta 0, beh il problema della stima naturalmente sarà tanto più sensato quanto più la distribuzione ovviamente è concentrata intorno a un certo valore, se la distribuzione è molto piatta non ha senso molto ridurla a un solo valore, quindi uno potrebbe prendere per fare una cosa sensata il valor medio di teta, condizionato ad x è ovvio perché è quello che avete trovato dopo che avete campionato e quindi come dicevo più volte dovete un minimo andare a controllare anche la valutazione della varianza, oppure potete andare a prendere il punto di massimo dipende dalla distribuzione, se avete un punto unico di massimo, cioè se esiste potrebbe non avere un massimo, la distribuzione potrebbe essere sempre crescente, sempre decrescente se il punto di massimo esiste ed è unico quella è un'altra buona stima di teta ma su questo non insisto perché quello è legato appunto alla forma della distribuzione ognuno poi sul sito Nettuno trovate esercizi su questo e trovate anche i consigli quando è bene o no stimare con un solo valore. Questo conclude il nostro corso, non mi resta che augurarvi buon lavoro. Grazie a tutti i nostri spettatori